Lavoro in Teadora da più di dieci anni e qui per me è un po' come casa. Qui i valori del brand, come l'innovazione, l'autenticità e la passione, sono i valori che ogni giorno animano ognuno di noi nello svolgimento del proprio lavoro. Il valore aggiunto di questa azienda sono sicuramente le persone e i legami che si instaurano tra di esse, che molto spesso vanno al di là del semplice rapporto di lavoro. E in un mondo così frenetico come il nostro del merchandising, sempre divisi tra analisi di benchmarking, line plan di collezione e pricing e dove le sfide e il superamento dei propri limiti sono una costante, sentirsi parte integrante di un gruppo che fa sinergia per il conseguimento degli obiettivi sicuramente rende il viaggio meno pesante e la meta più raggiungibile.